Fino a 14 gennaio, alla Biblioteca della Regione Piemonte, la mostra anche qui è nato Gesù, con esposizione di presepi da tutto il mondo. In rassegna un vasto sortimento di presepi provenienti da tutto il mondo e ambientati nei luoghi più strani, accanto a un vascello arenato sulla spiaggia in un antico bordo dei pescatori, su una vecchia tavolozza tra le sigli di colore, abbarbicato su un piccolo bracere per l'incenso.